... Assisteremo ad un incontro di MMA sulla divisione di peso dei 70 kg in tre riprese da due minuti l'incontro è offerto dalla FBETS, qui post Sassari e Street Cafe combatte all'angolo blu dal team Wolfpack Cristian Mullini combatte all'angolo rosso dal CL team Jacopo Littaru arbitra l'incontro il signor Luca Più ... ... ... ... ... ... ... Vince per sottomissione l'angolo blu Cristian Mullini ... 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